Londra, 1870 in un severo collegio vittoriano studiano il giovane Sherlock Holmes e il suo futuro, inseparabile assistente Watson, cacciati dalla scuola per colpa di un antipatico rivale, i due si lanciano a capofitto nella prima, vera indagine scoprire il colpevole di una misteriosa serie di delitti, guidati dall'arguzia e accompagnati da una bella fanciulla, i due giovani eroi scopriranno un antico tempio egizio nei sotterranei di Londra e smaschereranno una setta infernale comandata dal loro ex insegnante di scherma.